Cosa avete pensato per la sostituzione di Conec? Che chi gioca? No, 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 non mi dici chi gioca. Se mi dici chi gioca, non mi dici chi gioca meglio. Cioè, gioca... Ah, sono lui. C'è che lui dice, Dario, che chi gioca, io non mi dici chi gioca. Va bene, però, cosa... Allora, Conec è un giocatore molto... Non mi dici chi gioca, però Conec è un giocatore molto particolare per tutte le qualità che gli assume, insomma, per chi sa inserirsi, perché è... È un giocatore importante. È un giocatore importante, ok. E cosa chiedete alle vengole sostituzioni, perché sono due, e poi erano uno di quei loro. Noi chiediamo alle vengole sostituzioni, le caratteristiche sono quelle lì, le vengole sostituzioni non le può avere, però sicuramente di fare le impianti del meno possibile, ma di mettere in mostra alle vengole sostituzioni le qualità proprie, cioè, chi sostituisce deve essere... fare quello che sa nel miglior modo possibile, secondo me. Senti, un po' di questo. Il mercato finirà venerdì, la scampata ha paura, la pressione di amanti può essere un dato positivo, con un visto tecnico, però questa squadra ha avuto delle lacune, ecco, cosa... Romani c'è una partita, ma... insomma, cosa ti aspetti che succeda la giro venerdì? Io per le cose del mercato proprio non posso sapere, non posso rispondere, perché non sono all'oscuro, cioè, è Davide che parla col Presidente, io non posso proprio dire niente, ci arrivano i giocatori importanti di alleno, se non arrivano alleno, quindi che ho, l'importante è che avveni. Invece, come... come hai visto, appunto, guardarti in questi giorni, cioè, dall'arrivo a oggi, anche proprio a livello umano, cioè, a livello... io lo conosco molto... no, lo conosco abbastanza bene, perché è sei anni che lavoriamo a contatto a livello di serie A, sto parlando, eh... e io lo vedo molto motivato, lo vedo voglioso più che mai, la presa proprio a cuore, eh, sta l'uomo, mi dispiace che venga accusato di cose che non fa, perché è quella di Cagliari, che è stata accusata da una mia rinuncia, ma adesso dovrà... il Presidente dovrà fare... insomma, qualche parte di sedute e anche adesso è una cosa così, insomma, non va bene. Non capisco e non vedo il motivo perché deve essere... deve essere martellato, questo ne ha quattro le cose che non fa. Se le facesse davvero, allora... voglio dire... Allora, su cui la ricetta... le piatta con i tuoi coi in Cagliari, che percorso sta seguendo per la storia della mia? Niente, c'era... dire, quando lo sarà al momento, è stato tutto rimandato, però, insomma, va avanti la cosa. E invece, allora, su Manassi, sullo Stadio, no? È uno stadio che, per com'è fatto, spinge alla prenesia delle giocate, no? Al fatto di... Eh, cosa temi di quell'ambiente lì e come prepari la squadra? Lo stadio per il gioco del calcio, che è meraviglioso. Qui ci sono... c'è la curva, fai il coro di quadri, rispondi di là, senti un boaccio, è una cosa... fa venire i libri, direttore dopo, nel Barassi. Io parlo poi delle partite quando c'è il verbie, anche nelle altre, uno stato di calcio, proprio vero. Io penso che la Sampdoria si agevolate da questo punto di vista, eh? Perché il pubblico proprio ti aiuta tanto in quello stadio lì. In stadio dispersivi, insomma, la squadra di giochi in calcio non ha più partita. Cosa ti aspetti domani al Bologna? Cioè, le cose che vorrebbe si fa tutto vedere. Quello che mi interessa è che non abbiano timore di affrontare questa partita, perché giochi in trasferta, perché il pubblico è così, perché la Sampdoria è trasferta, andando bene, se non c'è il Bologna, non ha timore il Bologna, per me, domani farà una grande partita. Senti, la storia di Bianchi una partita può cambiare un destino una stagione, parlando del destino di Bianchi l'ha scritto nella tua storia, però quest'anno era la brutta una proposta della squadra. Poi fai una partita così e adesso... Queste sono le cose che succedono nel calcio, una cosa che succede da Lugger, una cosa che succede da Ancola, faccio nuovo, per l'acqua fresca o che è gente che è un pochino giù. Sicuramente due gol così importanti danno tanta forza a livello morale e ti aiutano per il proseguo del campionato. Avete pensato tu hai visto un canale di trasmissione o non penso alle radioline o ai telefoni? Oppure tu vai in panchina sai... Adesso non ho ancora detto niente, penso che le gran trasmissione non sono. da lo solito lui si fida. No, lui si fida e fai quello che vuole, io gli chiederò di guardare, non ho già detto niente. bene, altre cose? Mi chiedo il tuo. Sì. c'è che aveva disponibilità anche di tutti? No, beh, sono i fortunati, c'è cecchia e della roba. Ci sono i fortunati. E Solace come ha fatto? Solace, stava stata recuperata, stava stata bene, ma le sue regolamenti li ha fatti tutti e non ho in via proprio di intendo il Morleo sta bene, non ce la c'è solo da grande l'ultima cosa non ho fatto no, 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 i studenti, i resti stanno bene. Io avrei un po' curiosità, un po' prioristica, voi siete tra l'altro e sopravvissuti a cilindro, lo tinto, zamparini e preziosi. Come sono i primi 15 giorni con Guarardo? È un bravo presidente, molto bravo, e mi sembra proprio che sia una brava persona. Questi sono i prossimi che rispostano alle domande. Un po' dopo, è possibile che fanno i miei di una domanda? Ma vi eravate sentiti per la faccetta di Amanti, insomma, se ne parlavamo quant'altro, poi l'altro è stato fatto anche un paio di giorni. io non ho detto, e anche il ministro l'avrei anche ma anche se ne parlano, no, che sa che io no, poi dopo tra di loro poi c'è che si sentono, anche i dati dici tutto quello che mi succede. In come si allena? Abbiamo già parlato di diamante, ma come si allena? Come lo, c'è bisogno di sfornarlo, c'è bisogno di farmi sentire, insomma, che è ancora fondamentale che è fondamentale questo spazio, ma come ci si lavora con il giocatore a questo spazio? se si lavora a livello, io penso che a livello umano bisogna essere, è la cosa fondamentale, la cosa che vuole, ma è la persona che è la cosa più importante e secondo me essere veri e lui capisce che tu sei vero quando gli parli, cioè avere questa fiducia qui è importantissimo, per cui si lavora a livello umano e la persona perché è capitata una cosa così, ma lui è un ragazzo, però è fantasiolo che lui è, lui è un po' particolare così, e poi speriamo che lui ha scopi quello che gli significa, ecco, però non puoi fare diversamente, bisogna essere veri, per me, questo è così ragazzi, altro periodo di fare, no, trionne, arrivederci, provocare il bel poverizio, grazie a tutti,